Una battuta dei telegiornali, dettata di Pietro, bruciata di Pietro e paga pantalone Questo a beneficio del nostro pubblico, che spesso la gente è meno disinformata di quanto non immaginiamo Non esiste nessuna commedia di Totò che si chiama Io pago, è una battuta detta in un film, punto Che ho detto questo prima? Sì, è detto commedia Ah perfetto Eh, quanto puntone oggi Francesco quanto viene detto in un film È una battuta detta in un film, giustamente Se segna tutto, c'è il libretto, il taccuino, qua, ogni cosa E adesso è diventato il tormentone di striscianotizia appunto ogni volta che c'è qualche caso scandaloso da denunciare Di sperpero di denaro pubblico Che attualmente diciamo che, ecco adesso il discorso, prima parlavi del fatto della gente più cattiva Forse c'è più attenzione adesso alla mediaticità in qualche modo? C'è più attenzione, scusa? Da parte il pubblico A che cosa? Scusa, non ho capito la domanda, vi faccio una domanda di riserva Un aiutino C'è una maggiore attenzione rispetto alla prima di fronte all'esposizione mediatica, appunto delle notizie Delle brutte notizie Sì, brutte notizie Soprattutto di quelle brutte, perché stranamente quelle belle non fanno notizie appunto Solo quelle brutte, chissà perché si ricottano e vengono enfatizzate Dicevo anche prima, per collegarmi al discorso che facevo, che la spietata lotta all'ascolto, all'audience tra le detti televisive Ha generato una continua ricerca di casi al di sopra delle righe da proporre alla gente Perché la gente da una parte è assuefatta alle brutte notizie E che quindi in parte è indifferente Resta più indifferente Sì, però al tempo stesso, se dei fatti di cronaca hanno qualche elemento, qualche ingrediente un pochino particolare Che li differenzia da tutti gli altri, chissà perché ci si buttano a pesce poi Cioè da una parte c'è indifferenza Quindi c'è una mamma che ammazza il figlio e confessa Non ne frega niente di nessuno, il giorno dopo è dimenticata Una mamma che ammazza il figlio e non confessa E allora gli fa scattare tutta una serie di morbosità, di curiosità, di situazioni per cui tutti ci inzuppano il pane Tutti ormai vengono i giornali quasi come un film adesso Sì, effettivamente negli ultimi tempi ci sono stati 3-4 casi, parlo degli ultimi 4-5 anni Dei casi veramente incredibili, tanto li sappiamo tutti Il caso di Erba è una cosa che darà capriccio Il caso di Erika e Omar, il caso Franzoni ed altri 3-4 Non dipendiamo però negli scorsi anni, ai tempi di Giacchiametta Sicuramente ci sono sempre stati più omicidi Il caso del Canaro a Roma che è stato forse l'omicidio più esperato Sì, però si è identificato subito Il problema è che quando un caso si risolve subito La gente dopo un po' se lo dimentica Invece a tenere banco sono i casi dove c'è sempre un margine di dubbio Che in qualche modo genera due opposte fazioni Innocentisti e colpevolisti E questo fa sì che proliferino Tutta una serie di iniziative, di show contro show Inchieste, dibattiti Tutti gli invitati a questi salotti che a vario titolo intervengono Spesso gente che non c'entra nulla Che non ha alcun titolo per parlare e per sentenziare Però Blatter a ruota libera in maniera di tutto incontrollata Tutta una serie di teorie, una serie di ipotesi Che non sono suffragate in realtà da nulla E tutto questo ha una funzione molto pericolosa Quella di innescare nella gente Una serie di reazioni a catena abbastanza inquietanti Non solo, ma anche il desiderio di emulazione Che è una cosa molto pericolosa Perché è vero che mamme che hanno ammazzato i bambini Ce ne sono sempre state Però dopo il caso Cogne Guarda caso c'è stato il caso della mamma che ha messo i bambini in lavatrice Quell'altra che l'ha soffocato con una busta di plastica E poi c'è stato quello che l'ha messo nella bagnarola e l'ha affogato Cioè una cosa continua, non si era mai visto Un'altra che se ne ha portati due nel lago e li ha affogati tutti e due Perché secondo te ci sono dei casi Perché giustamente io penso Sembra una stupidaggine Chissà quante di queste mamme omicidi hanno pensato Cioè vedi la Franzoni sta su tutte le copertine Che ha ammazzato un figlio Io ne ammazzo due e mi daranno ancora più spazio Nelle prime pagine Inconscientemente posso accattare questi meccanismi Che salgono subito, ribalzano agli onori della cronaca E altri no Per esempio c'è stato un caso a Ostia Lido Lido di Ostia qualche Diciamo meno di 15 anni fa più o meno Una madre Presente ha trovato Almeno ha dichiarato di aver trovato I suoi due figli morti nella vasca da bagno E all'epoca il giudice le ha creduto E praticamente è stata archiviata come una disgrazia Dopo circa due anni Questa era una professoressa di sempre di lingue Il marito di educazione fisica Qualcosa del genere Non ricordo bene Perché poi abito non molto lontano di là Perciò ho vissuto in prima persona anche questo episodio Lo ricordo bene Dopo circa due anni È morto anche un altro figlio Appena nato Aveva pochi mesi Nello stesso modo A quel punto è stato rieperto anche il caso precedente E si è scoperto che questa madre aveva ucciso tutti e tre i figli Mio Dio Però perché questa notizia per esempio è uscita qualche giorno sui giornali Però non ha suscitato quella che è stata l'attenzione mediatica Ci sono una serie di fattori concomitanti E come un film Perché un film ha successo un altro Perché ormai sei quasi un criminologo Della celluloide Perché un film piace e un altro no Cioè neanche piace Perché magari un film attira e appena esce Manda la gente al cinema Ed altri no Sono una serie di elementi che in qualche modo Uniti tra di loro Fanno una miscela tale Che può o meno suscitare determinate reazioni Certe vicende incuriosiscono Altre meno Ma è un fatto abbastanza insondabile a volte A parità di crimine Poi ci sono dei casi eclatanti Che è inevitabile Che se ne pare Il caso dei bambini Il caso di pedofilia di Rignano Framinio Perché ha colpito? Cioè voglio dire Della scolastra Ma ci sono tre maestre Tre mamme di famiglia Poi che siano colpevoli o innocenti Noi non lo sappiamo Però il fatto stesso Che siano indagate Uno dice Oddio Allora io mando Qualcunque mamma Pensa Oddio io mando mio figlio a scuola Mio figlio ha due o tre anni Credo che stia in buone mani Invece possono succedere delle cose incredibili E' chiaro che ci sentiamo un po' tutti colpiti E' il caso Franzoni per esempio Perché ha colpito tanto Resta il fatto che Io non sono né colpevolista Né innocentista Mi riferisco ovviamente A quello che è nelle cronache Di tutti i giorni Perché ha colpito tanto? Perché ogni mamma Ha pensato dentro di sé Ma allora anch'io Un giorno potrei Ammesso che la signora Abbia ammazzato veramente il bambino Potrei anch'io Avere un momento di follia Un momento di rap Perdere un attimo la pazienza Magari ammazzare mio figlio Come qualunque figlio Pensa della propria mamma Oddio Mia mamma Avrebbe potuto ammazzare anche me Tu sai che All'uomo italiano Tutto li puoi toccare Tranne che la mamma Quindi in un certo senso Questo caso Ha toccato dei tabù Della famiglia Che riguardano un po' tutti noi Cioè tutte quelle cose Che sono dentro di noi Ecco Quando tocchi Argomenti di questo tipo Magari è più facile Che scatti Questo interesse morboso Perché il discorso è sempre Quello della paura Paura che anche a noi Possa succedere qualcosa di simile Tu hai parlato del caso di pedofilia Poi ci sono tanti casi di pedofilia Magari da parte di Rappresentanti del clero Che magari vengono insabbiati Dalla chiesa Dalla santa sede E naturalmente non vengono Non ribalzano Poi gli onori della cronaca E poi ci sono casi come Il caso per esempio Di Marcel de Gugliado Che è stato addirittura beatificato Ed è stato accusato Per circa 20 volte Di abuso sessuale A danno dei seminaristi Però Marcel de Gugliado È il fondatore Del legionario di Cristo Chiaramente ha creato Una grossa congregazione Plurimiliardaria Perciò Direi proprio miliardaria Infatti Perché milionaria Non parliamo proprio In termini di euro E praticamente Giustamente è stata insabbiata Dall'attuale Papa Ratzinger Che è stato Allora era prefetto Dalla congregazione della fede L'ex sant'uffizio Praticamente Però adesso Con questo discorso Stiamo un po' Sconfirando Però è una cosa Io Tengo Tanto in un ambito Addirittura Marcel de Gugliado È stato fino anche beatificato Addirittura Però Al ricordo di verità Bisogna anche dire questo Ecco Non è spettacolizzazione Ma è verità Verità mediatica Perciò ci fermiamo Per un attimo Perché magari vediamo Se c'è qualche notizia Di qualche prete pedofilo Che è stato inquisito È stato È stato Inviato a giudizio Guardate scusate Però sono argomenti Un po' seri Forse andrebbero trattati Con meno leggerizia Sicuramente Ma io li ho trattati Sempre molto seriamente